Ciao ragazze, come state? Spero bene. Nuovo video di Chiariccio, sì ma, nuovo video di Chiariccio per parlare un po' con voi. Allora, questo video per parlare con voi ma anche e soprattutto per farvi un po' di compagnia. Niente, allora, oggi ho fatto un sacco di commissioni, vedete finalmente che ho cambiato tutto, però almeno ho cambiato tutto, nel senso che finalmente ho preso una cosa dall'iPhone per poter registrare il microfono, col microfono, perché altrimenti non so se mi sentirete. E quindi, niente, se casomai questo video non lo vedrete ancora è perché o l'ho cancellato o lo rifarò da capo. Adesso vedete un po' come l'audio del video, perché è la prima volta che provo a registrare con un microfono che è acquistato, cioè è compilato ai cinesi. E quindi vorrei vedere un po' quanto riesco a registrare con questo benedetto microfono, perché il microfono, allora c'è il jack audio, più, vabbè, non sto lia a dirvi tutto. Comunque, ho fatto tutte le marche ingegni prese ai cinesi per poter fare questo video. Non so cosa avverrà fuori ancora, ma voglio sperare bene. Niente, allora, ero qui che volevo un po' parlare con voi, appunto, e niente, si, se volete roba lì alle spalle, e cose che insomma devo mettere tutto a posto lì provvisoriamente, ma provvisoriamente non è, perché dico sempre metto a posto, invece poi resta tutto con me. Vabbè, pazienza, no comment, e niente, quindi dicevo, il prossimo video, dopo questo che sarà, restate, siete raggiati, perché se mi riesce farò anche il video ASMR. Con i video ASMR, ovviamente, so che mi piacciono molto, li faccio, a me piacciono, ma non fanno tanto impazzire, ma vedo che a voi vi rilassano, quindi farò anche video ASMR, giusto così. Oggi sono andata, appunto, in giro dai cinesi, in giro, in giro per Palau, ma hanno fatto chissà quanti giri. E poi, alla fine, appunto, sono entratto i negozi di cinesi e ho acquistato prima il jack per l'uscita del microfono, che non ve la posso solo vedere, però vi fare una foto, un qualcosa, non lo so. E poi ho acquistato delle cuffie e il caricatore delle batterie, del caricabatterie, cioè l'adattatore più il filo per caricare il telefono, perché altrimenti l'altro non me lo facevo più caricare, perché talmente che l'ho tirato che si è rotto il proprio pezzo dove doveva caricare il telefono. Quindi, ciao, l'ho lasciato lì, l'ho lasciato lì dentro un cassetto, nella speranza di acquistare un altro adattatore per caricare il telefono più il filo. Vabbè, ho detto tutto, via. Niente, voi come state? State bene? Spero di sì. E niente, oggi il tempo è molto bello, non è un solo che spacca le pietre, però si sta decentemente bene. Guardo al di fuori del video, della telecamera, perché non vorrei che si alzasse di nuovo il vento, perché avanti ieri ha fatto una tempesta bruttissima, ovvero ha fatto prima pioggia, poi di nuovo vento, poi ancora più vento, fortissimo, oggi si spera in bene, veramente stop il vento, non ne vediamo più. Quindi ho detto, ah, finalmente è sorta la pace che se ne è andato via il vento. E niente, ho qua tutti i miei campioncini presi, anzi, regalati da mia amica Stefania, ovvero da Steffi. E poi, tutto gli altri prodotti, tutti gli altri prodotti ancora li devo provare, perché parto a mano non ho avuto modo, perché sono stra impegnatissima, non vi, non vi, come si può dire, non vi, non vi ne a mente, comunque, premetto che non ho ancora provato nulla, avrò modo di provare qualcosa, nel montaggio metterò cosa mi sono dimenticata di dirvi. E niente, sì, devo ancora pulire tutti i pennelli che ho, tutti insozzati, però vabbè, niente, non mi sono truccata in una, tranne che solo le sopracciglie, e il resto vabbè, non commento. Per quanto riguarda invece l'outfit, questo che avete addosso a me, non c'è nulla di che, di, 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 di nuovo, se non questi leggings che ho, pantaloni, barra, pantaloni tutta, barra leggings, più questa maglia, mi vedete addosso, maglia lunga, fino alle ginocchia, fino alle cosce, però mi stanno, mi piace molto, mi vedo che mi sta bene, almeno detto dalla parte mia, poi da parte vostra non so, però a me piacciono e mi li, e mi godo questo outfit che c'ho, come coda non nulla di che, c'ho una coda fatta un po' alla cavolo, ma vabbè, e niente, le sopracciglia le ho fatte, rimanisco con, come si chiama, Essence, se non erro, sì Essence, aspettate che ve lo faccio vedere, allora, prima lo pettinate con questo pettino qua, vedete, questo, e poi, se trovo, ecco qua, questo è, che cos'è, si è di Essence, Essence, è il Brown Designer, e il Brown Designer, vedete, questa è la mina, non è la mina, è la matita, si vede, sì, ok, e poi, vabbè, questo è il tappo per pettinare le sopracciglia, che tanto uso ben poco o niente, e poi ho utilizzato questa Brown Make, Make Up, ovvero Break Me, vabbè, questa qua, questo, questo, come dirlo, ho questo gel fissante, mascara, per le sopracciglia, per colorare un po', darle un po' di, di dimensionalità, alle, alle sopracciglia, insomma, dai, allora, ho lo scopo in questa maniera, che già lo sapete tutti, quale è, tutte, vedete, sì, poi, 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 altro niente, già, ho aspettato un secondo, perché non so neanche se ho registrato bene, sì, ho sentito tutto, dicevo, ho sentito tutto, ho riaperto quella, quel clip che stavo registrando prima, si sente, quindi, dovrebbe sentirsi più o meno, anzi, senza più o meno, ho tolto il jack dell'audio, e, tutto, come se non dire, tutto a posto, e, appena monto il video, lo vedrete online, di sicuro, niente, Allora, cosa ho fatto oggi? Nulla di che, sono stata tutto il giorno in casa, ma, non tutto il giorno, perché, è impossibile essere tutto il giorno in casa, come vi dicevo nell'altro video, o, beh, vi dicevo, appunto, nell'altro video, e, o, come si dice, aspettate un secondo, sì, ce l'ho, e ha attaccato, ok, sì, il jack dell'audio, o, ehm, me ne sono un po' andate in giro, a fare tante commissioni, ma non solo, ho girato un po' per i fatti miei, ovvero, ehm, anche socializzando con altre persone, tanto, per sapere come stavano, o meno, e poi, però, ehm, ho fatto solamente qualche breve giro, non ho fatto lungo l'ergo, come faccio di solito, perché, ehm, non mandava, ragazze, perché oggi, avevo troppi impegni, e non ce la facevo fare troppo lungo e largo, a meno che, non era una passeggiata, a mo' di ginnastica, a mo' di, di, di sbagamento, come si dice, vabbè, siamo capiti, al mo' di svago, ecco, perché quando faccio le mie giornate a mo' di svago, tipo, sorta di mini vlog, allora, vado a fare le mie passeggiate, già, ecco tutto, e niente, eh, poi, cos'altro dirvi, ehm, sì, mi sono divertita un mondo, l'altro giorno a fare quei video, la, come a una sabata la spesa, ma anche, l'altro giorno che ho fatto, quando era, non mi ricordo che video ho fatto, comunque, voglio l'inco, qua a destra, o a sinistra, no, la destra, scusate, a destra, ehm, vi linko il video dello spacchettamento, anzi, inbox, inbox, come si dice, scusate, i unboxing, perdonate, questo video non lo taglio, non mi interessa, come ve lo prendete, perché, quando taglio, poi, ciao, proprio non fa, comunque niente, sì, alla fine, ho deciso che, ehm, a me i video unboxing piacciono, unboxing spattamento, come le volete chiamare voi, mi piacciono, quindi, ho deciso che li, che li farò sempre, ma, in primis, voglio fare anche video di cucina, ma neanche, anche video di make up, oppure video di, ASMR, che sono belli, vi parisco, ASMR, mi piacciono da matti, ecco, perché li faccio, e niente, tutto lì, quindi, fatemi sapere, ragazzi, se adorate, eh, make up, ah, c'è una tra di voi, che mi ha chiesto di farle, una, tutte, non so quante siano, ma, qualcuna mi ha chiesto di voi, di fargli il video, eh, dei prodotti, che, insomma, che ho spaccettato con voi, del W7, del calendario dell'avvento, arriverà anche quello, tranquilli, non so se lo farò, in sorta di, ASMR, se vi sta bene così, oppure, se li farò, scusate, mi arrivano, mi arrivano una marea di notifiche, da YouTube, comunque, farò, stavo dicendo, un, unbox, no, scusate, un make up, un get ready with me, un GVR, come si chiama, non lo so, un, mi preparo con voi, anche se non devo uscire, uscire di casa, che che sia, dove, mi preparo, guardando, cioè, provando i prodotti, di W7, del calendario dell'avvento, W7, non li proverò tutti, ma alcuni si, voi direte, allora che senso ha, si, li provo tutti, ma quelli che, quelli che riesco a provare, perché, vediamo, vediamo ragazzi, non mi prometto nulla, le vorrei provare tutte, perché sono curiosa, quindi, vediamo cosa riesco a fare, non mi prometto niente, perché, molte cose, sono già, sono belle succulente, quindi, non so, cosa posso usare ancora, vediamo un po', già, si, sono belle, sono tutte cose belle, diciamo la verità, piacciono un mondo, poi qua, non so se ve l'ho detto, ve lo ribadisco, ho tutti i miei pennellazzi sporchi, ma pazienza, oggi non li utilizzo, perché, tra poco li laverò, non subito, appena posso li lavo, giuro, giuri in giurello, già, e niente, bene, ragazze, questo è tutto, se è così, se voi, metto un like, mettetevelo, e noi, ci si becca, appunto, a un prossimo video, cosa c'ho qua, fate vedere un po', ah, quell'altro, illuminante, non illuminante, si, illuminante più, ah, si, sto guardando qua dentro, che c'ho, quel correttore, che non fa impazzire a tutti, non che fa impazzire a tutti, però, della L'Oreal, di questo, stai parlando, di questo, questo qua, della L'Oreal, che non fa impazzire, tutti, ma a me piace, quindi, no comment, io non faccio testo, lo so già, però a me piacciono, e niente, ho tante cosine, da provare qua, raga, ok, niente, e dunque, adesso io, tra un poco, monto il video, senza modificare la mazza, perché tanto, se lo modifico, poi mi tocca sempre stare lì, a caricare il telefono, quindi, appena ho l'altro telefono, vedremo un po', non il Samsung, anche se ne comprerò, uno nuovo, il telefono, non lo so quando, e se lo comprerò, un altro telefono, non è detto, ma, proviamoci, perché ho bisogno, di una qualità, più bella, da far vedere, su YouTube, se non dovesse essere così, io tengo un Samsung, e quest'altro qua, che dà una catapicchia, questo telefono, vabbè, ciao, bacio, un bel pollicino, in su, perché dopo, per un altro video, un commento qua, nella sezione commenti, al prossimo video, ciao, attivate la campanella, per non perdere i prossimi video, aggiornamento, ciao, ah, cosa altro volevo dirvi, niente, vedrete anche i video, polizie, perché non i video di polizie, non li smetterò mai di fare, perché mi piacciono, ciao, 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 ciao,